Ok, direi che sono le 21.05, è arrivato il momento di iniziare, siamo in ben mille persone, più di queste purtroppo non entrano in questa stanza Zoom, ci dispiace, vi vorremmo veramente tutti, ma voi che siete qui giustamente ci siete nel ciò che conta. Gli altri la prossima volta impareranno a collegarsi un attimo prima. Per tutte le persone che sono collegate insieme a noi per la prima volta, io mi presento, sono Sara Taglienti, Black Diamond Swag, da praticamente due anni all'interno di questo progetto e oggi sono felicissima di essere insieme a voi in questa Zoom speciale per andare a raccontare a tutti voi quello che è accaduto lo scorso weekend. Bene, come potete intuire da questa primissima slide e come molti di voi sanno, siamo reduci da un evento che ha totalmente cambiato la nostra vita, siamo, ripeto, qualcuno che sta mostrando qualche gadget di questo evento, siamo reduci da un qualcosa che non solo ha cambiato la vita di noi che eravamo presenti a quell'evento, ma che siamo certi cambierà la vita di tutte quelle persone che oggi decideranno di sfruttare alla grande le informazioni che vi andremo a dare. Devo fare giustamente una premessa, so che oggi vi aspettate di prendere lo stesso entusiasmo che abbiamo preso noi che eravamo lì presenti al ciocco, ma ho una brutta notizia per voi, per quanto io ci metterò tutto il mio entusiasmo, tutta la mia energia e spero tutta la mia voce che mi regga fino alla fine, non sarà, ahimè, come per quelle persone che effettivamente sono state presenti all'evento. Quindi questo è già un mio primo suggerimento di fare in modo che al prossimo evento swag esserci. Non possiamo perderci dal vivo l'azienda perché quello che ci viene trasmesso in queste occasioni ha una magia unica, 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 che in una Zoom, per quanto davvero io ce la metta tutta, sarà quasi impossibile da trasmettere. Come affronteremo le novità di questa sera? Io cercherò un po' di fare un racconto di quello che è accaduto nella giornata di domenica, cercando di coinvolgervi ovviamente al massimo. Andrò molto veloce su alcuni punti, su altri mi soffermerò, in particolare su quelle che sono le nostre mega novità. So che saranno una carrellata, so che vi darò una bomba dopo l'altra, so che queste informazioni, le persone che erano presenti insieme a noi al ciocco, le hanno ricevute nel giro di diverse ore. So che oggi ve le andrò a riassumere in un webinar che comunque durerà molto meno rispetto a quello che è durato l'evento. Quindi se magari qualcosa non vi è chiaro, non vi preoccupate, poi riandremo ad approfondire tutti i vari aspetti. Oggi beccatevi il nostro entusiasmo e beccatevi queste bombe che stanno effettivamente per partire. Detto questo, come è iniziato effettivamente il nostro evento? Il nostro evento è iniziato con una sala meravigliosa che potete vedere in questa foto, di mille persone che ci hanno raggiunto, non solo da tutta l'Italia, ma da diverse parti del mondo. Abbiamo avuto persone che venivano dalla Spagna, persone che venivano da tutta l'Italia ovviamente, persone che hanno preso aerei, qualcuno che ha fatto diecimila chilometri dalla California per essere lì insieme a noi. Ed è stato l'evento in cui siamo riusciti effettivamente a festeggiare il nostro secondo compleanno. Infatti nella seconda foto potete vedere proprio il presidente di Swag e gli altri soci fondatori vicino alla nostra torta del secondo compleanno. Qualcuno potrebbe dire ma Swag esiste solo da due anni oppure esiste già da due anni? Ecco, possiamo vederla o in un modo o nell'altro, ma sta di fatto che in questi due anni abbiamo fatto qualcosa di meraviglioso grazie a tutti voi. Ma la cosa più bella è che inizieremo a fare qualcosa di ancora più meraviglioso negli anni che verranno, ok? Quindi tutte le persone che magari oggi hanno approcciato Swag e decideranno di metterci l'impegno giusto potranno fare totalmente la differenza nella loro vita, esattamente come è accaduto a me, esattamente come è accaduto a migliaia di persone che hanno già detto di sì al nostro progetto. Quindi grazie per tutto quello che insieme abbiamo fatto in questi due anni, ma come ci piace dire, a questo punto siamo arrivati a dove alzare ancora di più il nostro livello. E Swag cosa ha deciso di fare per alzare il nostro livello? Bene, sappiate che la giornata che abbiamo vissuto domenica è stata improntata su sei punti che noi andremo ad analizzare molto velocemente insieme. E questi sei punti rappresentano proprio i punti in cui l'azienda ha deciso di lavorare per permettere a tutti noi di creare qualcosa di estremamente incredibile grazie a Swag. Quindi andiamo a vedere quali sono questi sei punti. Punto numero uno, abbiamo lavorato sull'aumentare le risorse e le capacità aziendali. Punto numero due, adesso vedremo come. Abbiamo lavorato per accrescere quelle che sono le competenze aziendali. Punto numero tre, abbiamo realizzato delle nuove campagne di marketing per far sì che il nostro brand viaggi veramente alla velocità della luce e che ci sia sempre una migliore reputazione attorno a quello che è il nostro progetto. Punto numero quattro, rafforzare quelli che sono i nostri attuali prodotti e li preparatevi perché vi do tante di quelle bombe che qualcuno o casca, quindi tutti seduti mi raccomando, non voglio nessuno sulla coscienza. Ovviamente vi togliamo il sonno per qualche notte. Punto numero cinque, introduciamo nuovi prodotti e delle nuove opportunità di business. Punto numero sei, che per me è il punto centrale in assoluto. svilupperemo ancora meglio con una serie di cose, quella che è la nostra rete commerciale, perché ognuno di noi siamo la linfa vitale di Swag. Senza la rete, senza noi che tutti i giorni siamo sul campo, effettivamente tutto il resto sarebbe quasi impossibile da realizzare. Quindi complimenti ancora a tutti. Partiamo dal primo punto, iniziamo a vedere cosa ha fatto Swag fino ad oggi per aumentare le risorse e le capacità aziendali. Innanzitutto Swag ha sempre creduto nel potere della squadra, nel potere di avere al proprio fianco persone altamente specializzate che riescano a portare a buon fine gli specifici compiti che ovviamente ogni persona deve avere all'interno di una squadra che effettivamente funziona. Per noi nulla è impossibile. E che cosa abbiamo fatto in questi due anni? Abbiamo iniziato a creare uno staff che lavora dietro le quinte e che le persone che erano insieme a noi all'evento hanno avuto modo di conoscere di persona. Da Roberta Pelucchi, il nostro executive director, Francesco Giampieri, il nostro super network director. Abbiamo conosciuto il nostro CFO, ovvero la persona che si occupa della parte finanziaria dell'azienda. Mari Tidus, che è la responsabile del nostro customer support. Tiziana De Pasquale, marketing director. Hector, Anna Maria Mitrano, la nostra Edov Legal. Roberto Beccaceci, qualcuno di voi aveva già avuto modo di conoscere. Il nostro CTO, Denis Mirkov, che è il nostro responsabile della sede in Estonia. E insieme a loro, che sono appunto i responsabili di ogni macro area relativa ovviamente all'azienda swag, abbiamo tutta una serie di dipendenti in ogni aspetto. Quindi nel customer, nel marketing, nel legal, l'aspetto tecnico, administration, support, event. Oggi possiamo dire di essere una società che conta oltre 30 dipendenti full time. Le persone che erano insieme a noi nel ciocco hanno avuto modo di conoscere tutte le persone che poi effettivamente rendono possibile la nostra attività sul campo. E vedere 30 dipendenti in una realtà che esiste comunque da praticamente due anni è stato bellissimo perché l'azienda ci sta dimostrando che si sta strutturando nel migliore dei modi per permetterci di arrivare a fare numeri a dir poco esagerati. Ma ovviamente abbiamo creato questo fino ad oggi, ma il nostro obiettivo non è fermarci qui. Cioè se fino ad oggi swag ha fatto un lavoro straordinario, noi vogliamo andare ancora oltre. E per andare ancora oltre è quello che bisogna fare, continuare ad aumentare le nostre competenze. Quindi passiamo al secondo punto e vediamo come effettivamente swag ha deciso di andare a crescere le competenze aziendali. Come l'ha fatto? Semplicemente introducendo all'interno dello staff dei personaggi incredibili nel mondo della blockchain e non solo, che daranno un grande valore aggiunto alla nostra attività. Perché swag ha preso questa direzione? Perché è consapevole del fatto che rispetto al nostro potenziale noi oggi siamo solo al 5%, sia come crescita dell'azienda, ma soprattutto come crescita della rete. Quello che abbiamo fatto fino ad oggi è fantastico, ma è praticamente zero rispetto a quello che è il nostro reale potenziale. Quindi per sviluppare ancora il 95% di ciò che possiamo fare, cosa bisognava fare? Ovviamente portare in campo insieme a noi altre persone che potessero dare un grande valore aggiunto a quella che è la nostra attività. Per cui vi presento da subito quello che è stato uno dei nuovi partner, ovvero delle nuove persone che hanno deciso di iniziare a collaborare con swag per il prossimo anno ed è un personaggio incredibile. Si chiama Pasquale Sorgentone. Ha scritto il libro che vedete in questa foto che io ho qui con me. Se vedete la mia webcam, è un libro dal valore incredibile che parla di Bitcoin, Blockchain, Cripo Asset, finanza decentralizzata. È considerato il libro migliore in assoluto scritto sull'argomento. Pensate che l'autore di questo libro è una persona che sviluppa Blockchain per istituzioni, è un personaggio che vi suggerisco di comprare il libro. Ebbene sappiate che questa persona che noi abbiamo avuto modo di conoscere di persona durante il nostro evento sarà insieme a noi per almeno i prossimi 12 mesi e sarà il nostro consulente per le strategie di prodotto. Come vi avevo già preannunciato, si chiama Pasquale Sorgentone. Qui potete vedere una foto del nostro evento mentre era sul palco a fare uno speech e durante il suo intervento ha raccontato in una maniera estremamente semplice quello che è la moneta, così come la conosciamo oggi, e dove si sta muovendo il mondo, ovvero come e perché il Bitcoin la farà sempre di più da padrone. Comprate il suo libro, copirete, è veramente un mondo che rafforzerà ancora di più quelle che sono le nostre credenze rispetto a quello che è il mondo del Bitcoin. Quindi, prima new entry all'interno del nostro staff aziendale, Pasquale Sorgentone. Ma non ci siamo fermati qui. A proposito di Pasquale, nel suo libro, nell'ultima pagina, scrive una frase che dobbiamo tenere tutti a mente. Vi dico, leggete il libro che avrete tutto sicuramente più chiaro. Ma nel suo libro a un certo punto scrive che è prevedibile una convergenza e l'esperienza utente su un unico strumento. Quindi quando parla di futuro del valore, ovvero in che direzione si sta muovendo il mondo economico, lui nomina il fatto che tutto si sta muovendo attorno ai cosiddetti wallet. Ovvero i wallet nel tempo andranno a costituire l'unico punto di accesso a tutte quelle che sono le attività legate alla blockchain, che sappiamo tutti essere il futuro, e agli asset digitali. E non so voi, ma io qualcuno che ha sviluppato un wallet molto interessante, lo conosco, e si chiama SWAG. Ok? Quindi noi da due anni a questa parte stiamo parlando proprio di questo. e sicuramente il wallet per noi rappresenta la chiave di accesso a tutto, ma oltre al wallet noi fin dal primo giorno offriamo un servizio a dir poco eccezionale che tutti amiamo, che tutti conosciamo, ed è il servizio Mining. Che cosa ha fatto SWAG in questi due anni? Il suo obiettivo è sempre stato quello di offrire ai nostri clienti un servizio veramente top. Per fare questo, lo staff del Mining, che in questo momento è capitanato da uno dei soci SWAG, Luciano Costanzo, persona eccezionale che abbiamo avuto modo di conoscere di persona e sentire sul palco, qual è l'obiettivo dello staff che oggi si occupa del Mining? Obiettivo principale è quello di mantenere in equilibrio l'acquisizione reale del venduto e della messa in produzione degli impianti. Fare in modo che i nostri impianti, che rappresentano il patrimonio societario, restino sempre in sicurezza. Soprattutto riuscire a garantire l'affidabilità della produzione, a garanzia del rendimento di Mining di ogni singola macchina. Pensate che abbiamo ottenuto un servizio full service che ci riesce ad intervenire entro quattro ore per la riparazione di guasti, cioè siamo a livelli veramente top. E soprattutto quello che cerca di fare l'azienda è di andare ad ottimizzare i costi di acquisto dei miner stipulando con i produttori degli accordi eccezionali per permetterci sempre di avere la migliore offerta in assoluto sul mercato da poter offrire ai nostri clienti. E quindi in questa direzione, nella direzione di voler offrire sempre di più un servizio super performante ai nostri clienti, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo introdotto nello staff una persona di livello super top nel mondo del mining. È venuta al nostro evento direttamente da Mosca. Lui si chiama Eugenie Pavlov, che potete vedere in questa foto, ma anche in quest'altra, mentre era sul nostro palco, a spiegarci quello che lui sta facendo per Swag, con passione per Swag. E sappiate, giusto per darvi un po' il calibro di che personaggio è Eugenie, lui è anche il responsabile di Binance in Russia. Quindi pensate, il responsabile di Binance Russia oggi lavora attivamente insieme a noi nel progetto Swag. Ed è proprio la persona che ci aiuta nelle strategie di acquisto delle macchine che poi effettivamente noi andiamo a proporre ai nostri clienti. E com'è che abbiamo fatto mining fino ad oggi? L'abbiamo fatto lavorando con due farm che tutti noi effettivamente conosciamo. Abbiamo BitTree, perché le persone che già un anno fa erano state ad un nostro evento live, avevano avuto modo di vedere tramite una videoconferenza in diretta con la Russia. E da qualche mese a questa parte stiamo lavorando anche con BitFury, che tutti sappiamo essere, pensate, la terza mining farm più grande al mondo. Ecco, qualcuno ogni tanto ci dice ma sarà vero che Swag veramente alle macchine da BitFury, da BitRiver, fanno mining veramente? Ecco, sappiate che tutte le persone che erano insieme a noi all'evento hanno avuto modo di conoscere di persona Giorgi Zabadev, che è Lead of Sales di BitFury. Quindi abbiamo avuto direttamente in sala, nel nostro evento, una delle persone responsabili di BitFury, che vi assicuro, abbiamo dei video a testimonianza, poi magari li gireremo nei vari gruppi, era gasatissimo all'idea di lavorare insieme a Swag. Cioè, pensate, BitFury, il colosso mondiale del mining, sul nostro palco, esaltato all'idea di dire cavolo, io sono felice di lavorare con Swag, e quindi, cavolo, se non ci credeva qualcuno, beccatevi anche il video suo di Giorgi, che ha veramente raccontato con entusiasmo assoluto la sua felicità di essere oggi nostro partner. E vi do una piccola news in anteprima, grazie proprio a BitFury, oggi abbiamo anche un terzo partner per quanto riguarda il mining, quindi abbiamo stretto un accordo con una terza farm collegata a BitFury, che si chiama Baikal, e questa nuova farm ci permetterà di avere ulteriori spazi per andare ad allocare quelle che sono le nostre macchine a energia e prezzi, ovviamente competitivi. Quindi, per ricapitolare, abbiamo due anni di vita, in questi due anni abbiamo creato uno staff incredibile che lavora notte e giorno per la buona riuscita del nostro progetto, e l'azienda, siccome non si ferma mai, cosa ha fatto? Ha iniziato a prendere in casa ulteriori personaggi di livello top per permetterci di portare swag a livello mondiale, che effettivamente merita. Pensate che BitFury si sta quotando in borsa, ecco, un'azienda di quel calibro oggi è il nostro partner ed è venuto in Italia con entusiasmo a dirci che è felice di tutto questo. Ma andiamo al punto numero tre, ovvero, Swag cosa sta facendo? Sta lavorando tantissimo sul nostro brand awareness, ovvero vogliamo creare un marchio, quello di Swag, dove chiunque lo sente nominare automaticamente dice cavolo, questa è una cosa figa, è una cosa tranquilla, è una cosa dove io posso effettivamente impegnarmi per costruire il mio futuro. E per fare questo abbiamo iniziato tutta una serie di operazioni di marketing sia su testate online che su testate offline di cui abbiamo già avuto modo di vedere qualcosa in queste settimane, quindi quasi tutti abbiamo visto già l'articolo su Wired, su Millionaire, su Trend Online, su Bitcoin.com e queste sono solo alcune di una serie di riviste online e offline che hanno parlato di noi perché nei prossimi mesi ne avremo tantissime altre. Quindi vi preannuncio ci saranno tante nuove uscite online e offline che parleranno di Swag su Fortune, sempre su Trend Online, su Qui Finanza, su Millionaire, su Bitcoin.com, su Wired, anche su Affare e Finanza che è un inserto di La Repubblica. Quindi sentiranno tutti parlare sempre più di noi. Ma non ci siamo limitati a questo. Noi vogliamo fare in modo che chiunque associ Swag ha qualcosa di unico e di potentissimo sul mercato. E quindi cosa abbiamo deciso di fare? Abbiamo deciso di iniziare a entrare in una serie di associazioni di categoria che ci aiutino ovviamente a migliorare la nostra immagine. Quindi quando qualcuno dovrà un po' dire ma chi è Swag? Ecco, noi potremo sbattere tra virgolette in faccia a queste persone che magari dubitano anche un po' della nostra serietà una serie di associazioni di livello top. Quali sono queste associazioni? Ecco, siamo ufficialmente in Blockchain Italia e nella Global Digital Finance che sono due delle più importanti associazioni per quanto riguarda appunto il settore in cui noi ci muoviamo e per darvi un'idea di chi sono le altre società che sono associate a queste due appunto associazioni giusto per darvi qualche nome Bitfinex, Blockchain for Europe Coinbase, Crypto.com Ernest & Young London Stock Exchange non so se questi nomi vi dicono qualcosa ma sappiate che sono all'interno di queste associazioni esattamente come lo è SWEG e prestissimo sui nostri siti vedremo i loro marchi pubblicati quindi possiamo dire ufficialmente di essere nelle più importanti associazioni di categoria ma ora arriviamo al bello perché stanno per partire delle bombe che veramente potrebbero stordire qualcuno e togliere il sonno come anticipavo prima perché SWEG cosa ha deciso di fare? Ha deciso di andare a rafforzare i nostri attuali prodotti e da questo punto di vista devo dire che io sono otto anni che mi occupo di network marketing e non mi era mai 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 capitato di essere in un'azienda che ascolta così tanto la propria rete cioè spesso cosa accade? Noi che siamo il board chi siamo? Noi siamo semplicemente rappresentanti di tutta la rete ovvero persone che hanno modo di interfacciarsi un po' più spesso con l'azienda e andare a riportare all'azienda quello che accade poi sul campo tutti i giorni e noi abbiamo spesso e volentieri dei momenti di confronto e analizziamo con l'azienda quello che potrebbe essere fatto sempre meglio per permettere alla rete di andare sul campo e sentirsi tranquilla e serena nel costruire il proprio business quindi in questi mesi abbiamo fatto un lavoro in mane nell'andare ad analizzare tutti quegli elementi che potevano essere d'aiuto ad ognuno di noi per poter ottenere risultati ancora più grandi di quelli che abbiamo ottenuto fino ad oggi e quindi vediamo insieme cinque bombe incredibili prima bomba è partita dal fatto che insieme alla rete ci eravamo resi conto che nel momento in cui bitcoin magari scendeva un po' di valore alcuni dei nostri clienti magari temporeggiavano nell'attivare un servizio di mining per paura per tante ragioni ok e quindi abbiamo detto dobbiamo trovare assolutamente una soluzione a questo perché non può essere che se il valore del bitcoin scende un po' e noi sappiamo che bitcoin può salire e scendere un po' così tutti i giorni ma se scende non possiamo essere fermi noi dobbiamo far sì che le persone che lavorano con noi possano continuare a lavorare anche se il valore del bitcoin dovesse scendere un po' quindi ci siamo ingegnati con questa soluzione prima bomba tutti seduti ecco sappiate che all'attuale contratto di noleggio a produzione variabile ovvero il servizio che conosciamo tutti che stiamo vendendo alla grande andiamo ad affiancare anche un nuovo tipo di contratto di noleggio che sarà un contratto di noleggio a produzione fissa garantita ovviamente sarà un contratto che non renderà tanto quanto può rendere potenzialmente il nostro contratto variabile ma ci aiuterà a lavorare anche in quei momenti in cui magari il valore del bitcoin scende quindi andiamo a vedere ancora meglio in che cosa consiste si tratta di un contratto di noleggio in cui la produzione per tutta la durata del contratto è fissa e garantita da swag ovviamente si assume il rischio ovviamente come vi dicevo produrrà meno ma si avrà la certezza assoluta di quanti bitcoin avremo al termine del nostro contratto quindi a cosa serve questo nuovo prodotto inserito serve ad andare ad eliminare dubbi e incertezze del nostro potenziale cliente che può verificare direttamente quale sarà il risultato che andrà ad ottenere al termine del suo contratto senza correre rischi questa tipologia di contratto avrà la durata di un solo anno e al termine dell'anno il cliente potrà decidere se rinnovare il contratto quindi fare un nuovo contratto oppure no come verrà proposto quindi troveremo a partire da lunedì 26 luglio quindi dalla prossima settimana dei nuovi lotti da 25 macchine che avranno appunto caratteristiche tecniche variabili sempre in base al lotto che abbiamo in vendita in quel momento e il primo lotto avrà queste caratteristiche quindi saranno 25 macchine disponibili saranno tutte Bitfury da 100 Tera tempo di attivazione 60 giorni quindi la produzione partirà il 26 settembre la durata del contratto sarà di un anno quanto costerà effettivamente questo contratto avremo sempre le nostre soluzioni macchine intera mezza un quarto un ottavo un sedicesimo un trentaduesimo questi sono i prezzi che effettivamente pagheremo come al solito in Bitcoin e andiamo a vedere quanto effettivamente produrrà questo nuovo contratto la produzione ovviamente è differente in base al tipo di miner sottoscritto quindi se avrò una macchina intera avrò un risultato se avrò mezza macchina ne avrò un altro e così via qui potete vedere quanti Bitcoin in più avrò al termine del mio contratto in relazione a quanto effettivamente avrò pagato il servizio in questo caso che cosa accadrà la produzione verrà accreditata al nostro cliente non giornalmente ma mensilmente quindi esempio io noleggio una macchina intera per un anno con la produzione fissa e garantita mi aspetta mi aspetta ovviamente di avere al termine del mio contratto un 12% in più di Bitcoin rispetto a quanto ho pagato il servizio ma questo 12% lo riceverò mensilmente quindi vuol dire che riceverò un 1% in più di Bitcoin rispetto a quanto mi è costato il servizio ogni mese per 12 mesi che figata a dir poco pazzesca ovviamente questo contratto noi questa tipologia di macchine la potremo vedere anche all'interno della nostra app promoter a brevissimo ovviamente quando saremo arrivati al termine del nostro noleggio che cosa sarà accaduto avremo già recuperato tutti i Bitcoin che abbiamo utilizzato per attivare quel servizio più avremo un 12% extra di Bitcoin buona notizia questo nuovo servizio ovviamente farà guadagnare anche la rete quindi le percentuali delle provisioni non cambiano ad eccezione del rank bonus che viene leggermente variato le nostre commissioni oggi non le approfondiamo perché più o meno tutti conosciamo il piano compensi quindi abbiamo semplicemente un servizio in più sul quale andiamo a guadagnare tanti Bitcoin in più passiamo alla seconda bomba seconda bomba che cosa è accaduto noi ovviamente sempre confrontandoci con l'azienda abbiamo visto che ci sono dei potenziali nuovi clienti che vorrebbero fare il noleggio a produzione variabile ma che ogni tanto hanno paura dell'ascellazione della difficoltà della produzione ovvero sicuramente a tutti noi sarà capitato che qualcuno va a vedere il risultato finale sulla nostra applicazione con il nostro simulatore e magari viene fuori che al termine del periodo potrebbe avere un 50 70 80 100% in più di Bitcoin qualche cliente dice ma io non sono certo che avrò il 50 piuttosto che il 70 piuttosto che il 100 e se per qualche ragione dovessi avere meno Bitcoin rispetto a quanto ho pagato il servizio noi sappiamo che questa cosa non accadrà ma l'azienda ha voluto trovare un'ulteriore soluzione per far stare tutti i nostri clienti ancora più sereni e quindi che cosa ha detto io all'attuale contratto di noleggio a produzione variabile ti aggiungo anche una garanzia di produzione minima ovvero anche se dovesse accadere l'impossibile e quindi scende magari la produzione di Bitcoin accade non lo so un disastro cioè qualcosa di assurdo che cosa succede io comunque al termine del tuo contratto ti assicuro che comunque almeno avrai i Bitcoin con cui hai attivato il tuo servizio quindi a che cosa serve questa garanzia che noi aggiungiamo gratuitamente ai contratti del nostro cliente serve ad eliminare tutti quei dubbi e quelle incertezze del nostro potenziale cliente che magari in questo modo può essere certo di avere come minimo i suoi Bitcoin ovviamente la garanzia dura per tutta la durata del contratto come verrà proposto in questo momento via promozionale come vi ho già anticipato sarà gratuita inclusa negli attuali contratti senza nessun costo aggiuntivo per il cliente e vi assicuro noi avevamo i massimi esponenti al mondo della blockchain e del mining in sala insieme a noi loro stessi hanno detto che oggi sul mercato non esiste un prodotto simile siamo gli unici al mondo a dare delle garanzie sul mining e i nostri partner erano lì presenti a dire quanto cavolo siamo unici sul mercato terza bomba che vi lancio adesso che cosa è successo noi abbiamo tutta una serie di clienti che ci hanno dato fiducia ben due anni fa quando c'era una soluzione di noleggio differente rispetto a quella che conosciamo oggi ok e questi vecchi clienti avevano dei pack con delle condizioni un po' differenti rispetto a quelle che abbiamo noi oggi e questi clienti hanno detto ma noi dall'inizio abbiamo dato fiducia a swag quindi possiamo in qualche modo continuare ad avere delle condizioni legate al modo in cui avevamo iniziato il business swag ecco swag ha risposto di sì dando a tutti i nostri vecchi clienti ovvero quelle persone che fin dal primo giorno hanno deciso di dire sì a questo progetto una doppia possibilità su tutti quelli che sono i power pack che abbiamo sottoscritto prima di febbraio scorso ok che cosa potranno fare esattamente come adesso alla scadenza il loro contratto avranno una duplice opportunità la prima opportunità sarà quella di fare lo switch dal vecchio contratto ai nuovi contratti di noleggio a produzione variabile con uno sconto del 5% oppure potranno decidere di rinnovare anche loro il vecchio contratto con una produzione fissa a delle nuove condizioni a cosa serve questa novità introdotta serve a dimostrare a tutti i nostri clienti che per noi sono la cosa in assoluto più importante che abbiamo e che faremo sempre di tutto per rendere i nostri clienti felici quanto durerà questo contratto con la produzione fissa si potrà scegliere una durata di 12 18 24 mesi e vediamo insieme come verrà proposto e che tipo di risultato andrà a dare questo tipo di nuovo contratto per i vecchi clienti cosa accadrà verrà proposto all'interno del nostro back office troveremo la possibilità di switchare o di rinnovare il vecchio pack di mining non ci saranno costi aggiuntivi per scegliere questa nuova soluzione ma si tratterà semplicemente di un rinnovo esattamente come accadeva prima dal 26 luglio sarà disponibile questa possibilità e vediamo quanto andranno a produrre questi pack per tutti i nostri vecchi clienti ecco per tutti i clienti che sceglieranno come durata del contratto 24 mesi la produzione di bitcoin resterà invariata quindi avremo sempre da un 15 a un 30% in più di bitcoin all'anno scegliendo la soluzione di 24 mesi se sceglierò la soluzione di 18 mesi avrò dal 12 al 24% in più di bitcoin se invece sceglierò la soluzione da 12 mesi da un 10,5% fino a un 21% in più di bitcoin nel mio portafoglio non so voi ma io non conosco nient'altro al mondo che ci permette di accumulare in maniera così semplice tantissimi bitcoin tutti collegati perché le novità sono ancora tante mi raccomando però quanto farà guadagnare alla rete tutto questo lo vediamo qui quindi avremo la possibilità di guadagnare su questa tipologia di rinnovo fino a un 2,5% diretta fino a un 85% di infinity e così via quindi vi lascio lo schemino poi approfondiremo ovviamente tutte le commissioni di tutto il piano compensi in un'altra sessione dedicata apposita perché io in un'ora voglio raccontarvi tutto e devo andare un po' veloce per raccontarvi ciò che c'è stato raccontato in un'intera giornata quindi le commissioni poi ve le diremo ma sappiate le potete fotografare qui le vedete sappiate che guadagnerete ancora altri bitcoin quindi come gira gira vi toccherà guadagnare e non so a quanti dispiace questa cosa quarta bomba signori questa è una bomba da paura da paura se non andiamo lì fuori a sponsorizzare come matti persone del nostro business siamo folli perché sempre dal confronto con l'azienda noi sul campo ci siamo resi conto di una cosa che tutte le persone che approcciano il progetto swag che iniziano effettivamente a dire voglio guadagnare con questo business cosa fanno magari compro uno star kit ma non partono immediatamente nel business perché noi sappiamo che nel momento in cui io compro da promotore uno star kit ho la mia porzione di macchina inclusa ma quella macchina inizierà a produrre bitcoin per me fra 90 barra 120 giorni esempio mi scrivo oggi so che il mio star kit e quindi la mia macchina inclusa il mio star kit inizierà a produrre bitcoin il primo di ottobre e per noi questo è un po' un ostacolo perché delle persone dicono quando riceverò i miei bitcoin il primo ottobre allora magari inizierò a parlare con altre persone di questo business ma noi sappiamo che il nostro business funziona e quindi vogliamo permettere a tutti di essere veloci nel condividere l'opportunità quindi abbiamo parlato con l'azienda ed ho detto noi abbiamo bisogno di una soluzione dobbiamo fare in modo che tutte le persone che approcciano swag del business immediatamente siano nelle condizioni di dire cavolo questo business funziona voglia andare lì fuori a condividerlo con il mondo e quindi che cosa è successo che hanno trovato una soluzione anche in questo caso ovvero a partire dal 16 di agosto tutti gli star kit vedranno la propria produzione attivarsi nelle prime 48 ore che cosa vuol dire questo io sono un promoter mi scrivo oggi domani riceverò nel mio wallet swag i miei primi bitcoin prodotti immaginiamo che delirio può accadere con una roba del genere quando io mi scrivo nel business oggi domani ricevo bitcoin dopo domani ricevo bitcoin il terzo giorno se non parlo con il mondo sono effettivamente un folle ecco swag anticiperà la produzione solo alle persone che inizieranno il business con uno star kit quindi cosa vuol dire io prendo il mio star kit senior professional o expert il giorno dopo inizia a ricevere la mia produzione bitcoin se poi voglio comprare un'altra macchina ovviamente l'altra macchina che andrò a comprare avrà i normali tempi di attivazione ma questo farà sì che tutti per vedere se effettivamente il business funziona vogliono da subito avere uno star kit perché sanno che su quella macchina guarda caso la produzione inizierà il giorno dopo ok questa soluzione l'avremo disponibile dal 16 di agosto ma ascoltate bene sarà retroattivo anche per tutte le persone che sono iscritte prima del 16 di agosto e che non hanno ancora percepito la produzione cosa vuol dire ammettiamo che io mi sono iscritto una settimana fa nel business e mi aspettavo di iniziare a prendere la mia produzione il primo di ottobre cosa succederà anche se mi sono iscritto una settimana fa il 16 di agosto inizierò a ricevere giornalmente la mia produzione altro esempio mi iscrivo domani mattina nel business il 16 di agosto inizierà a ricevere la produzione mi iscrivo il 16 di agosto il 17 inizia a ricevere la produzione mi iscrivo il 20 di agosto il 21 inizia a ricevere la produzione ok quindi questo è ciò che ci serviva e che desideravamo tantissimo per dare ancora più velocità al nostro business ok ma non è finita qui perché se quattro bombe erano già tante ve ne sbatto fuori una quinta e non abbiamo ancora finito perché perché Swag ha deciso di sviluppare un ulteriore prodotto un ulteriore prodotto che chi capisce le dinamiche del network marketing uscirà totalmente fuori di testa fuori di testa perché a tutte quelle persone che sono già dei nostri clienti quindi tutte quelle persone che hanno già una macchina attiva stanno già utilizzando i nostri servizi potranno utilizzare un ulteriore prodotto un prodotto che si chiama pub che cos'è il pub è il nostro piano di accumulo bitcoin ve lo spiego un po' meglio qual è l'obiettivo di questo nuovo prodotto che andremo ad introdurre tra poco l'obiettivo è quello di permettere a chiunque di avere più bitcoin perché se siamo qui in swag è perché tutti noi effettivamente vogliamo avere un modo per avere tanti bitcoin da parte da qui ai prossimi anni e quindi abbiamo inventato una soluzione che permetterà a tutti di andare a massimizzare nel tempo il numero dei propri bitcoin e vediamo nel dettaglio che cos'è il pub il pub è un sistema automatico che se sottoscritto andrà a prelevare automaticamente ogni mese dal proprio wallet swaggy una quantità fissa da noi decisa che dal mese successivo verrà immediatamente messa a minare vi faccio un esempio non so se a voi è mai capitato di dire sai che c'è ogni mese mi metto 50 euro da parte li metto in posta esempio perché voglio crearmi una mia pensioncina alternativa quindi metto 50 euro al mese da parte ecco immaginate cosa può voler dire se ognuno di noi inizia a dire sai che c'è io ogni mese voglio prendere 50 euro di bitcoin e metterli a produrre e il mese dopo anche e il mese dopo anche e il mese dopo ancora ecco sappiate che questo è il nuovo prodotto che lancia swag il pub avrà una durata inizialmente di 12 mesi magari poi verrà anche modificata la durata e come è che verrà proposto solo chi è cliente swag con un qualsiasi prodotto di mining già attivo troverà nella sua pagina personale un'area dedicata in cui potrà andare ad effettuare la sua scelta i tech che ci stanno già lavorando per mettere sul mercato questo prodotto vi dico che sarà attivo tra settembre e ottobre il 2021 il costo sarà fisso e predeterminato e qui vedete in bitcoin quale sarà la tipologia di pub che ognuno di noi potrà fare quindi potremo avere una soluzione del genere a partire da 50 euro ovvero tutti possono mettere 50 euro in bitcoin da parte per produrre ulteriori bitcoin quindi avremo una soluzione da 50 da 100 a 250 a 500 a 750 o 1000 sempre in bitcoin cosa vuol dire questo che io oggi decido di attivare magari il mio yield mining da 50 euro al mese per i prossimi 12 mesi dal mio wallet swaggy ogni mese mi verrà automaticamente scalato 50 euro in bitcoin e avrò una produzione fissa quale sarà la produzione annua che riceverò grazie al mio pub la potete vedere in questa slide quindi da un 5% in più di bitcoin fino a un 10% in più di bitcoin che avremo al termine dell'anno con ovviamente l'accredito mensile cosa vuol dire questo che se io ho attivato ad esempio il mio piano di accumulo bitcoin da 50 euro oggi mi vengono tolti 50 euro quei 50 euro in bitcoin al termine del mio anno mi avranno dato un 5% in più di bitcoin questo 5% lo avrò spalmato nell'arco dei 12 mesi ok quindi questo mese avrò il mio un dodicesimo di 5% sul mio yield mining da 50 euro il secondo mese su altri 50 il terzo mese su altri 50 il quarto mese su altri 50 e il delirio è che il nostro cliente sarà felicissimo perché avrà attivato un servizio che gli permetterà automaticamente di produrre più bitcoin di accumularne il più possibile da qui al prossimo anno in base alle sue disponibilità e noi guadagneremo ogni volta che il cliente attiverà un pub perché cosa accadrà che l'azienda ovviamente ha previsto delle commissioni che qui vedete le percentuali anche per noi ed è un delirio questo perché vuol dire che ogni volta che un cliente decide di attivare il pub noi non stiamo vendendo nulla perché se l'ho attivato da solo il cliente ma ogni mese quando verranno scalati quegli esempi 50 euro 250 1000 quello che sia ogni mese noi prenderemo una rendita ogni mese ogni mese ogni mese sia sul valore dello yield mining sia sulla produzione che le macchine noleggiate effettivamente avranno in cosa si traduce tutto questo in un pacco di soldi in più per tutti noi e quindi nel momento in cui il servizio sarà effettivamente disponibile all'interno del nostro swag il nostro obiettivo sarà quello che tutti i nostri clienti attivi abbiano anche un programma di yield mining perché stiamo facendo loro del bene e quindi abbiamo visto in questo momento 5 bombe le andremo a riassumere tutte alla fine molto velocemente per uscire da questa zoom con le idee più chiare possibile ma il bello è che non è finita lì vi assicuro è stata dura la giornata di domenica perché pensavamo che ci avevano detto tutto invece poi usciva un'altra bomba e da questo punto di vista l'azienda ha sempre lavorato per creare delle nuove opportunità in questo mercato e dalle analisi che abbiamo fatto in questi due anni ci siamo resi conto che oggi nel mondo c'è un segmento di mercato in cui nessuno si è ancora mossa e questo segmento di mercato può valere mille volte quello che stiamo facendo oggi con il mining di che settore stiamo parlando dei servizi per le aziende quindi swag si sta preparando a muoversi non solo nel settore dei privati come abbiamo fatto in maniera eccellente in questi due anni ma ci stiamo iniziando a muovere anche nel mercato delle aziende e quindi che cosa verrà lanciato a brevissimo il post per le aziende ovvero permetteremo a tutte le aziende di avere un post virtuale che permetterà loro di incassare bitcoin durante la loro attività di tutti i giorni con agganciata a questo post anche la possibilità di fare mining con tutta una serie di vantaggi fiscali perché questo sarà un prodotto disponibile e rivolto a tutte le partite IVA con totale detraibilità ovvero non costa nulla le aziende che andranno a risparmiare sulle tasse le aziende potranno pagare questo servizio anche in euro e per tutti noi che andremo a condividere questo servizio ovviamente avremo provvigioni dirette ed indirette a go go si tratta di un mercato vergine infinito a livello mondiale e un servizio così oggi non lo dà nessuno al mondo questo deve farci capire quanto ancora enormemente più grande diventa la nostra opportunità ecco pensate che le aziende in un unico contratto avranno tre grandi benefici un post virtuale dove potranno incassare bitcoin avranno un wallet business su swaggy e avranno incluso il nostro servizio di mining ovviamente noi daremo tutta una serie di strumenti di supporto per noi che effettivamente facciamo l'attività sul campo per promuovere questo servizio con una facilità incredibile quindi cosa metteremo a disposizione la rete il calcolatore dei benefici aziendali direttamente sull'app un contratto studiato ad hoc che indica nel dettaglio come portare in detrazione le macchine noleggiate metteremo a disposizione tutti un flyer che spiegherà tutto per l'azienda e per il commercialista e avremo ovviamente supporto costante e continuo di professionisti nell'ambito fiscale e tributario ovviamente per creare tutto questo e per muoverci in questo mondo nuovo noi non siamo per fare le cose da soli e quindi abbiamo stretto un ulteriore partnership con un importantissimo gruppo leader nella gestione degli aspetti fiscali e tributari ovvero il gruppo Scriva e Soluzione Tasse il cui fondatore è Gianluca Massini Rosati che è venuto direttamente al ciocco a raccontarci anche lui di persona quanto è felice di aver stretto questa partnership insieme a Swag e grazie a lui riusciremo a rispondere a tutte quelle domande che ogni tanto ci lasciano ancora un po' così cosa sono le cripto per la legge italiana cosa deve inserire nel quadrv della dichiarazione dei redditi come si calcano le cripto imposte quindi soprattutto per le aziende come le registro in bilancio le criptovalute che ci devo scrivere ecco per rispondere a tutte queste cose Swag metterà a disposizione in maniera totalmente gratuita un'academy per tutti i commercialisti e soprattutto in partnership appunto con Scrib abbiamo creato un portale dove potete registrarvi scannerizzando questo QR code che vedete in questa slide dove troverete all'interno dei video dedicati sia a noi privati per capire come andare a gestire i nostri bitcoin anche dal punto di vista fiscale sia troveremo tutta una serie di video dedicati alle aziende quindi Swag veramente si sta muovendo sempre l'interesse di ognuno di noi per tutelarci a 360 gradi dandoci degli strumenti che costano oro in maniera totalmente gratuita per tutte le persone appunto della nostra community ovviamente avevamo già parlato un po' di tempo fa della possibilità di iniziare a lavorare con l'azienda ma i test hanno richiesto un po' più di tempo rispetto al previsto perché ci stiamo iniziando a muovere in un mercato dove nessun altro si è mosso fino ad oggi vi do già qualche input comunque che per poter promuovere questo tipo di servizio bisognerà qualificarsi e quindi ci sarà una qualifica minima richiesta ci sarà l'attestato di partecipazione ad un corso di formazione online o live dedicato bisognerà superare un test di prova guadagneremo pacchi di soldi anche su questo servizio ma quanto si guadagnerà e tutti i dettagli ve li sveleremo in occasione del prossimo evento nazionale di cui dirò qualcosa di più tra pochissimo ma non è tutto qui non è tutto qui cioè se quello che vi ho raccontato in questi 45 minuti è già da delirio ci sono altre bombe che veramente saranno dure da digerire e quindi la prima bomba ve la voglio introdurre con una domanda fino ad oggi qual è stata la più grande paura che hanno tutte le persone che si sono avvicinate al mondo bitcoin e anche a swag vi dico pensateci bene ma so già che vi siete dati della risposta e questa risposta è molto nota a tutti noi ovvero tutti noi no io no magari tutti fino ad oggi hanno pensato anche per un momento di svegliarsi una mattina di non trovare più i fondi sul proprio wallet cioè quanti di noi hanno pensato almeno una volta e se swag chiude e se swag sparisce cosa succede ai miei bitcoin o se mi dimentico le chiavi per the bitcoin panico ecco magari so che adesso tutti dicono figurati se ho mai pensato una roba del genere ma in fondo in fondo lo so che tutti l'abbiamo pensato almeno una volta e quindi swag ha detto noi dobbiamo trovare una soluzione anche a questo noi dobbiamo fare in modo che le persone che entrano in swag si sentano tranquille all'ennesima potenza e quindi cosa abbiamo iniziato a fare abbiamo iniziato a parlare con esperti consulenti tecnici aziende sembrava impossibile trovare una soluzione che tutelasse a 360 gradi i nostri clienti ma alla fine ce l'abbiamo fatta e quindi vi possiamo annunciare che swag fornirà il primo wallet assicurato 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 ovviamente l'assicurazione non è che la facciamo noi da soli non è che ce la sogniamo e ce la cantiamo da soli ma questa assicurazione viene realizzata da una primaria compagnia assicurativa digitale che andrà a tutelare tutti i wallet di swag come nessun altro al mondo quindi l'assicurazione sarà fornita da CoinCover che fa parte del gruppo Yoid e vi faccio vedere velocemente quale sarà il tipo di protezione che andremo a dare effettivamente ai nostri clienti gli daremo una protezione contro il furto ovvero se qualcuno hacker il wallet ci ruba le chiavi private inclusi attacchi di forza brutta informatici phishing software maligni troian war macking furto di dispositivi attacchi un monte di roba protezione anche del portafoglio con copertura assicurativa fino al valore del portafoglio in caso di guasto del sistema del software fallimento aziendale diciamo abbiamo un wallet protetto anche dal fallimento aziendale corruzione dei dati eccetera cosa accadrà ovviamente per poter fornire questa assicurazione abbiamo dovuto adeguare swag e anche swag a delle richieste durissime che effettivamente questa compagnia assicurativa ci ha fatto e tra queste richieste abbiamo avuto il fatto di dover collegare il nostro software a quello che è il gestore di wallet bitcoin più sicuro a livello mondiale ovvero bitgo cosa vuol dire che in questo momento tra i nostri partner abbiamo un colosso che pensate è stato venduto lo scorso 6 maggio a 1,2 miliardi di dollari e noi siamo contentissimi e onorati di avere questa partnership con loro che cosa accadrà ovviamente noi non venderemo assicurazioni perché non è ciò che ci compete ma il cliente che ha just waggy direttamente nella sua area riservata troverà la possibilità di andare ad attivarsi in autonomia la propria assicurazione che sarà pronta per il 16 di agosto quanto costo ovviamente sarà un servizio facoltativo ma pagamento quindi se io voglio assicurare il mio wallet potrò farlo tranquillamente in due versioni la formula basic con una protezione fino a 100 mila dollari sull'affidabilità dell'exchange con soli 25 euro all'anno che è una cifra ridicola per assicurare i nostri wallet cosa che non fanno da nessun'altra parte inciso e la soluzione pro con protezione fino a 250 mila dollari sull'affidabilità dell'exchange e fino a 10 mila dollari che poi verrà aumentato nel corso del tempo in caso di furto del wallet questa seconda assicurazione un po' più completa 50 euro all'anno e a questo punto mi nasce una domanda spontanea quante persone conosciamo che vorrebbero avere i propri bitcoin assicurati e siccome la risposta è tutti non esisterà più una buona ragione per cui un cliente debba utilizzare un wallet differente rispetto al nostro perché è follia a me non viene nemmeno per la mi passa per l'anticamera nel cervello di mettere i miei bitcoin su una chiavetta dove magari potrei perdermi le chiavi private o su coinbase o d'un'altra parte dove io non sono assicurata io i miei bitcoin me li tengo belli stretti all'interno del mio swag assicurato e quindi cosa faranno anche gli altri esattamente la stessa cosa ma non è tutto abbiamo detto che questo è un servizio che noi non venderemo direttamente cioè il cliente che va nel suo swag e decide se se lo vuole attivare oppure no ma l'azienda cosa incredibile ha deciso che ci farà comunque guadagnare provvigioni cioè noi non vendiamo questo servizio il cliente se lo compra in autonomia ma noi guadagniamo signori qui sta per partire un delirio che farà esplodere a dismisura le nostre rendite e se noi abbiamo in azienda persone che oggi guadagnano oltre due bitcoin e mezzo al mese con quello che abbiamo fino ad oggi iniziamo a ragionare a dove ognuno di noi potrà essere da qui ai prossimi due anni con tutte le novità che sono state introdotte qui potete vedere qualche screen di come andremo a vedere effettivamente l'assicurazione quindi pensate che sull'assicurazione oltre il 50% di ciò che l'azienda incassa da questo servizio verrà girato in commissioni sulla rete ma non è tutto perché la collaborazione con BitGo ci andrà a portare un ulteriore vantaggio importantissimo ovvero che le fee di invio Bitcoin saranno finalmente notevolmente più basse e saremo in linea con tutti gli altri competitors tra l'altro l'interfaccia grafica di Swag sarà rinnovata e vi inizio a far vedere qualche screen insieme di come effettivamente sarà quindi a partire dal 16 di agosto avremo uno Swag ancora più performante assicurato con fee competitive e non esisterà più una buona ragione per cui un utente debba preferire un altro wallet al nostro sarà follia non avere Swag e tutte le persone che oggi sono già nel mondo cripto vorranno assolutamente avere un wallet con noi e sapete qual è la buona notizia che per averlo devono trovare un promoter Swag che li faccia registrare all'interno della nostra community questo può voler dire avere migliaia e migliaia e migliaia e perché no milioni di clienti in più all'interno della community Swag e a questo punto qualcuno starà pensando sarà un'ora che parla abbiamo finito abbiamo detto tutto e invece no abbiamo detto tanto anche tantissimo per essere solo un'ora e chiacchieriamo ma non abbiamo detto ancora tutto perché abbiamo notato che l'azienda non si ferma mai vuole creare qualcosa di unico sul mercato e anche da questo punto di vista in più ce l'abbiamo fatta perché abbiamo iniziato a studiare gli altri exchange abbiamo detto ma cosa possiamo dare di valore aggiunto al nostro Swag che nessun altro wallet al mondo ha in particolare un qualcosa che sia utile alla nostra tipologia di cliente ovvero a persone che non sono iper tecnologiche ma che sono innamorate del mondo del bitcoin che magari non sono esperti di trading ma vorrebbero capire quando è il momento di comprare quando è il momento di vendere bitcoin che magari hanno poco tempo a disposizione ma sono attenti alle novità e quindi abbiamo lavorato tanti e alla fine è venuta fuori un'idea che vi presentiamo in questo momento ovvero se ci fosse un modo per dare delle informazioni in anticipo su ciò che potrebbe accadere all'andamento del mercato cripto in maniera semplice e compressibile a tutti cioè se ci fosse qualcosa che mi fa capire blin oggi è il momento di comprare bitcoin blin oggi è il momento magari di vendere bitcoin blin oggi è il momento di stare ferme e non fare nulla sarebbe qualcosa di bestiale ebbene siamo riusciti a farlo grazie a un ulteriore partner quindi abbiamo creato un sistema con intelligenza artificiale che ci permetterà grazie ad un semaforo rosso giallo verde di capire qual è il momento buono per comprare bitcoin qual è il momento buono per restare fermi e qual è il momento buono magari per vendere bitcoin ovviamente non l'abbiamo fatti da soli ma l'abbiamo fatto con un partner next di edge dove uno dei suoi esponenti Andrea Bellacicca è venuto insieme al proprietario di questa società sul palco a raccontarci anche loro di quanto sono entusiasti di aver stretto una partnership insieme a swag quindi disponibile già da oggi troviamo all'interno di swag il sentiment AI ovvero una piattaforma di intelligenza artificiale che possiamo provare gratuitamente dove inizieremo a capire effettivamente quando è il momento di comprare di vendere di stare fermi oppure no ok vi faccio vedere qualche screen molto velocemente ovviamente come anticipavo è disponibile già da oggi è attivabile gratis per tutti quindi possiamo già iniziarsi a divertire dopodiché potrò decidere di acquistare un abbonamento per continuare a ricevere questi segnali semaforo giallo rosso verde che mi permetteranno di capire è il momento di comprare oppure no potrò avere la versione manual ovvero solo il semaforo con 9,90€ al mese o automatic che mi dà sia il semaforo sia un automatismo totale anche per l'acquisto e la vendita di bitcoin dopo il rilascio a 19,90€ al mese e wow cosa follia ancora di più è che tutto questo farà guadagnare ulteriori soldi alla rete quindi anche in questo caso oltre il 50% di ciò che swag guadagnerà dalla vendita di questo servizio a clienti verrà condiviso con la community e a questo punto siamo arrivati al punto numero 6 che riguarda un po' tutti noi abbiamo visto nel dettaglio in questa ora come swag si è incentrata nel metterci nelle migliori condizioni di fare bene e swag effettivamente può sviluppare migliori prodotti sul mercato ma la crescita di un progetto è data soprattutto di un progetto come il nostro dove lavoriamo con il network marketing è data sì da un'azienda che sviluppa costantemente cose nuove che fa il massimo per darci migliori servizi del prodotto ma dall'altra parte anche la rete deve crescere e per poter crescere c'è un aspetto che non si può sottovalutare che è quella della formazione e della professionalizzazione di ogni singolo promoter perché per arrivare al successo quello vero non esistono scorciatoie anche io stessa per arrivare qui è perché sono anni che seguo eventi che seguo formazione che leggo che mi informo che cerco di investire su me stessa e quindi ognuno di noi per arrivare a raggiungere dei risultati che magari non ha mai raggiunto fino ad oggi e che vorrebbe veramente raggiungere per cambiare la propria vita deve necessariamente investire su se stesso e quindi deve partecipare a della formazione che Swegge ci offre sempre a livelli top infatti vi preannuncio che dopo 18 mesi di delirio purtroppo per l'emergenza sanitaria che stiamo vivendo finalmente faremo il nostro prossimo evento Sweg Academy che cosa sarà? sarà un corso di formazione sul network marketing sulla crescita personale in cui riusciremo a metterci tutti nelle migliori condizioni di ottenere risultati straordinari ci aiuterà ad eliminare dubbi incertezze a crescere come professionisti e a conoscere ancora meglio i servizi e l'azienda sarà un evento che durerà tre giorni e che pensato dirà formazione a vacanza questo evento verrà realizzato in una location meravigliosa pensate in questa location va a Vasco Rossi abitualmente ogni anno ed è il Calanè Village a Castellaneta Marina provincia di Taranto quando si terrà da giovedì 23 settembre alle ore 15 fino a domenica 26 settembre alle ore 17 pensate che tutto l'intero villaggio diventerà uno swag village quindi sarà una location interamente riservata a noi dove potremo andare a formarci pensate dove potremo portare anche le nostre famiglie vi dico già che nel back office trovate anche il ticket per portare insieme a voi figli mogli mariti famiglia chiunque ok quindi quanto costerà questo evento giustamente pensate che un evento del genere dovrebbe avere dei costi esorbitanti ma il nostro il nostro responsabile eventi è riuscito a tirar fuori un prezzo incredibile ovvero con soli 350 euro possiamo riprendere in mano la nostra vita fare un'esperienza unica e partecipare ad un corso di formazione che per me personalmente è sempre stato l'elemento fondamentale di ogni risultato ma attenzione perché ci sarà posto solo per 250 posti e un centinaio sono già stati venduti a delle persone che effettivamente hanno partecipato insieme a noi all'evento ulteriore informazione 350 euro è il prezzo base tutte le persone che si sono iscritte in swag con uno star kit expert avranno uno sconto di 100 euro quindi avranno la possibilità di sfruttare la camera per una notte inclusa nel loro star kit expert e quindi li verrà 249 euro quindi per riassumere le novità so che sono state tante so che magari qualcuno è stordito ma in un minuto riassumiamo insieme abbiamo visto quanto swag è cresciuto e quanto stia investendo in partnership di eccellenza per metterci nelle condizioni di sfondare in questo progetto abbiamo visto che hanno iniziato a darci delle ulteriori soluzioni per poter svolgere ancora meglio la nostra attività quali sono in sintesi le bombe che abbiamo visto oggi abbiamo visto che sarà introdotta a partire dal 26 luglio una nuova soluzione di mining con produzione fissa garantita abbiamo visto che i i contratti di mining che già stiamo utilizzando in questo momento quindi a produzione variabile avranno una produzione minima garantita ovvero abbiamo azzerato qualsiasi tipo di rischio per i nostri clienti per i clienti vecchissimi quelli che dal primo momento hanno detto di sì gli diamo la possibilità al termine del loro noleggio del vecchio pack di mining di switchare alla soluzione variabile che è quella più remunerativa in assoluto oppure se hanno voglia di continuare con una produzione fissa potranno farlo scegliendo di rinnovare il proprio contratto per 12, 18 o 24 mesi abbiamo visto anche che tutte le persone che iniziano l'attività insieme a noi le macchine che hanno inclusa all'interno del loro star kit inizieranno a produrre bitcoin giornalmente il giorno successivo all'attivazione sarà valido per tutti a partire dal 16 di agosto con appunto effetto regrettivo abbiamo visto che viene introdotto un prodotto che è il pub che sarà operativo tra settembre ottobre 2021 già disponibile sentiment AI ovvero l'intelligenza artificiale all'interno di Swaggy che ci aiuta a capire qual è il miglior momento per comprare vendere o non fare nulla nel mondo del bitcoin e in più abbiamo visto che dal 16 agosto abbiamo l'assicurazione sul nostro wallet Swaggy e delle fee in linea con i nostri competitor in più partirà a breve lo scopriremo nel momento in cui ci vedremo nell'evento di settembre anche Swaggy business post virtuale mining per le aziende in tutto ciò il nostro evento si è concluso con un annuncio e un'emozione incredibile da parte del nostro presidente Giovanni Leonetti dove ci ha spoilerato che stiamo anche per aprire la nostra società italiana quindi Swaggy sta per aprire una società per azioni dove vi diremo ulteriori informazioni in occasione dell'evento che terremo a settembre a questo punto non ci resta che fare una cosa azione perché azione perché con quello che oggi noi abbiamo in mano se non facciamo azione siamo dei folli ovviamente tutte queste informazioni che vi ho dato io questa sera devono metterci nella condizione di essere certi di essere nel miglior progetto al mondo di network marketing legato al bitcoin e secondo me il miglior progetto al mondo di network marketing in assoluto perché non siamo paragonabili a nulla sul mercato ma in questo momento restiamo focalizzati su quello che abbiamo già disponibile oggi quindi abbiamo visto che inizieremo a lavorare con l'azienda abbiamo visto le cose che avverranno magari tra qualche settimana avverrà Zueg ha già dimostrato in questi due anni che quello che dice lo fa quindi è questione di qualche settimana e tutto ci sarà ma noi dobbiamo fare azione oggi e quindi da subito continuare a lavorare con ciò che abbiamo non ci perdiamo ancora nel parlare di business per le aziende nel momento in cui sarà disponibile ne parleremo e lo venderemo oggi continuiamo a fare fatturato e azione con ciò che abbiamo disponibile e per fare azione vi dico già che abbiamo un calendario che ci permetterà di muoverci sia sul campo sia online per quanto riguarda l'online vi invito già domani ad invitare tutte le persone che vogliono conoscere i nostri servizi al webinar che terremo dedicato esclusivamente ai clienti quindi domani sera ore 21 webinar dedicato a tutte le persone che vogliono conoscere il bitcoin il mondo swag e i servizi attivi di swag il giorno successivo webinar dedicato a tutte le persone che vogliono conoscere la nostra attività e oltre a questi webinar che abbiamo la nostra agenda settimanale operativa tutte le settimane quindi la trovate all'interno dei nostri canali abbiamo strutturato un inizio di calendario eventi meeting con il board aziendale anche sul territorio quindi vi preannuncio che il 25 luglio saremo a Pescara all'hotel Esplanade nel Roof Garden un posto fighissimo il 26 luglio saremo a Roma il 27 il 29 luglio saremo a Lecce il 29 saremo anche a Milano il 1 agosto ci saranno altri eventi il mio suggerimento qual è? è di non aspettare che sia il board aziendale a creare dei nuovi eventi ma il mio suggerimento è quello di far sì che ognuno di noi decida di diventare realmente protagonista di questa attività e che decida di iniziare ad organizzare i propri eventi se decideremo di fare effettivamente questo ci aspetta solo ed esclusivamente un futuro rosso perché a quel punto avremo deciso di prendere noi in mano quella che è la nostra opportunità e avremo deciso noi di fare quelle che sono le azioni giuste per poter andare a conquistare dei risultati a dir poco incredibile io con questo pezzo di avervi raccontato tutte quelle che sono le novità non so come ho fatto in uno sto sudando in un'ora e un quarto no nemmeno un'ora e un quarto un'ora e cinque minuti siamo riusciti a raccontarvi tutte le novità a questo punto molto velocemente se i miei carissimi amici e colleghi del board vogliono aggiungere un minutino qualcosina a testa io vi lascio al volo la parola e rimango qui per concludere poi la sessione quindi vedo Daniele con il microfono attivo Lorenzo vai buonasera 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 a tutti ragazzi allora contenti visto che cosa abbiamo portato avete fatto caso alle slide il board dice bene ragazzi il board dice che è ora di alzarsi da quella sedia perché non ce n'è più per nessuno non c'è più cosa che non possiamo smontare e non c'è più nessuna scusa per non poter portare a casa tutti quello che vogliamo ringrazio come al solito Sara che è stata splendida prendete iniziative cominciate ad andare sul territorio e raccontate a tutti quello che possiamo fare possiamo portare valore a chiunque voglia alla portata di chiunque e in piena sicurezza volevo solo dirvi questo aggiungo solo un'altra cosa da mille siamo diventati ottocentotventiquattro chiunque sappia che qualcuno ha abbandonato la sala dopo di questo annunci ditegli che il board dice che non potete sempre solo aspettare che qualcuno faccia cose per voi alzatevi e andatelo a raccontare a chiunque forza ragazzi bisogna soltanto muoversi vai un minutino a testa che vogliamo restare due e un quarto eccomi eccomi io faccio i complimenti a te Sara perché sei stata perfetta è veramente difficile quello che hai fatto perché noi siamo stati sei ore lì tu sei riuscito a trasmettere io mentre tu parlavi riuscivo a rivedere velocissimo come se fosse un video che andava avanti veloce tutte quelle scene per rivivere quelle emozioni che dire hai detto tutto abbiamo detto tutto Swag ha detto tutto adesso dobbiamo dire noi la nostra dobbiamo sicuramente metterci in in moto e e realmente perché Swag vale a tanto valore e con o senza di me Swag comunque diventerà un'azienda uniforme poi cercate cosa vuol dire un'azienda unicorno in giro e capirete cosa vuol dire azienda unicorno quindi ci vediamo nelle piazze sembra politica però ci vediamo nelle piazze ok quindi ci vediamo live grazie a tutti grazie 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 buonasera buonasera a tutti mamma mia ma siamo carichi porca paletta quanto erano alte le aspettative prima di questo evento e quanto sono state superate mi stanno arrivando messaggi pazzeschi Claudio avevate creato delle aspettative qualcuno si chiedeva se erano fin troppo alte e invece ecco le risposte ecco le risposte abbiamo la possibilità di veramente prenderci quello che ci meritiamo ragazzi zero zero stare fermi adesso è il momento della formula magica mic muoviamo il sederino ma sapete tutti quella cipa e cosa sta ma perché lo dico perché ragazzi abbiamo l'opportunità più grande del mondo non ce n'è più per nessuno abbiamo creato qualcosa di straordinario di irreplicabile abbiamo tutti la possibilità veramente di cambiare la nostra vita grazie a SWAG SWAG ha dato il massimo ora tocca a noi a tutto gas ragazzi perché il futuro ci aspetta tutti e sarà super mega straordinario un abbraccio a tutti grazie Sara sei stata veramente straordinaria mi hai convinto mi risponsorizzo bene vai Marco ciao ciao buonasera rinnovo i complimenti perché sei la numero uno lo sai te lo dico sempre e che dire ragazzi io dico solo una cosa dimostriamo all'azienda chi siamo perché credetemi che in un gruppo come questo 20.000 persone di cui 6.000 promoter possiamo fare numeri che le altre aziende nel mondo fintech se lo sognano e quindi vi lascio così dimostriamo all'azienda chi siamo perché dietro alle spalle abbiamo davvero una grande azienda e noi dobbiamo dimostrare a loro che siamo altrettanto grandi per arrivare dove vogliamo arrivare tutti insieme grazie a tutti ragazzi ciao grazie Marco Carlito Carlo non so se grande sì sì ci sono Sara complimenti sei stata fantastica sei riuscita a farci rivivere delle emozioni che per noi è stata la terza volta che che l'abbiamo sentita da venerdì e sono ancora emozionato guarda sono ancora emozionato come la prima e ancora devo devo mettere tutto a fuoco però vorrei ricordarvi una cosa ragazzi che a questo evento eravamo mille persone ma non eravamo solo mille persone dell'Italia c'erano le persone che sono arrivate dalla Spagna c'erano persone che sono arrivate dalla Romania c'erano persone che sono arrivate dal Camerun c'erano persone che sono arrivate dalla Nigeria ci sono movimenti in lingua inglese con persone con cui stiamo già lavorando che siamo in contatto in quattro continenti ok quindi io vi voglio invitare anche a pensare che Swag è internazionale che abbiamo un business fantastico qua in Italia ma ci stiamo muovendo benissimo all'estero con i ragazzi spagnoli abbiamo già un sistema di lavoro quasi come in Italia e a breve partiremo anche con quello inglese quindi ragazzi alziamo il livello alziamo le ciapette come diceva qualcun altro e andiamoci a prendere quello che ci meritiamo forza Swag grazie Supercarlo e per chiudere vi lascio la mia metà eccomi Emanuele Caputo ciao buonasera a tutti siamo ancora 700 dopo un'ora e un quarto incredibile ma sapete cosa vuol dire 700 1000 persone in una sala quello che abbiamo vissuto due giorni fa ebbene siamo tutti qui ancora online a capire come oggi Swag può cambiarci la vita andiamo a riflettere su questo adesso concentriamoci su ciò che vogliamo ottenere da qui ai prossimi mesi ai prossimi anni per la nostra vita noi possiamo andarci a prendere ciò che vogliamo e che abbiamo sempre desiderato da quando abbiamo iniziato magari a lavorare tutto questo magari non so se vi vedete ancora mi sentite? ok grazie non abbiato la condivisione vai vai ok pensiamo a questo pensiamo alle cose più belle per noi nella nostra vita non entriamo troppo nei tecnicismi cerchiamo di capire che oggi abbiamo tutto più rafforzato tutto più sicuro l'azienda c'è abbiamo le spalle coperte ora sta a noi possiamo prenderci tutto quello che magari la vita fino ad oggi ci aveva precluso e se siamo stiamo bene economicamente non importa avremo tanto di più e saremo liberi perché la vera qualità di vita è godersi i propri soldi qui abbiamo un sistema che crea rendite e ti rende libero che con o senza di te continuerai a guadagnare puoi costruire puoi costruire quello che la vita normalmente non ti dà hai un business in mano a costo zero che ti può permettere di essere libero quanto vale la tua libertà quanto vale quello che puoi regalare ai tuoi figli e alla tua famiglia alle generazioni future che verranno quanto vale ciò che per te conta di più questa è la vera domanda oggi abbiamo uno strumento ancora più potente e siamo ancora più consapevoli sfruttiamo gli eventi online sfruttiamo gli eventi offline fra qualche giorno saremo a Piscara Roma poi Milano Lecce eccetera venite con tanti ospiti e partiamo già domani online per creare la più grande community della storia che vi renderà liberi per sempre a voi le persone a voi più care le vostre famiglie e tutte le persone che avete coinvolto perché la cosa più bella sapete qual è che potrete aiutare tutte le persone che vi hanno dato fiducia a diventare libere esattamente come voi e se oggi ancora non abbiamo risultati enormi non importa quello che abbiamo fatto fino ad oggi andiamoci a prendere ciò che non abbiamo ottenuto o abbiamo ottenuto meno perché da domani conterà quello che faremo e quello che ci andremo a prendere forza tutti insieme uniti verso grandi obiettivi non vedo l'ora di vedervi anche dal vivo e sognate in grande prendetevi ciò che meritate io vi auguro il meglio vi faccio dare un saluto da Sara che è qui con me e ci vediamo presto ciao ragazzi è stato un super piacere essere insieme a voi questa sera come piace dire al nostro presidente ormai a tutti noi è diventato il nostro mantra a questo punto non ci resta che fare una cosa azione 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 ciao ciao a tutti ciao ciao